Salve gentili e rispettatori, oggi andiamo a fare qualche riflessione brevissima su quello che è successo in merito alla richiesta di un comitato di alcune persone per una piazza nel rione popolosissimo di Belvedere. Un rione che ha avuto diversi problemi, un rione che cerca anche con questa iniziativa di ridarsi dignità, di ridarsi un senso d'orgoglio. Quello che è successo è noto a tutti che gli uffici non hanno risposto, fino anche sulla sollecitazione del prefetto di Salerno russo, il segretario comunale non ha potuto rispondere che gli uffici sono in forte ritardo su questa cosa. Ecco, anche queste piccole cose, noi le chiamiamo piccole, sono importanti. I cittadini vanno rispettati e allora all'organismo preposto a dare una risposta lo faccia in maniera subitanea perché Belvedere propone un'istanza veramente importante.